Venezia, terza mostra aeronautica. Ragazzi lasciatelo lavorare, questo ufficiale tenta di spiegarci perché il vento dell'elica non spenge le candele di accensione. Questo elicottero bello è in dotazione alla nostra aeronautica. Un po' più in piccolo il rondone Ambrosini. Ecco qua un contropelo del nuovissimo G46 Fiat, nuovissimo anche il ministro della difesa onorevole Codacci Pisanelli che ha inaugurato la mostra. Questo aliante sta dimostrando e con quanta grazia che il motore in realtà non è che un aggeggio superfluo e troppo rumoroso. Altro contropelo è il Tigrotto P52, ora è la volta degli spaccaorecchie F84 che ce l'hanno a morte col muro del suono. Il signore che qui vedete appeso a questo tenue filo di speranza è un naufrago che seccato dalla compagnia dei pesci si è rivolto ad un elicottero di passaggio. L'elicottero del tipo Sikorsky si è gentilmente prestato e gli ha offerto un passaggio.